Sperano un'effettiva ed incisiva riduzione dei cantieri autostradali, anche coloro che normalmente per i casi in Liguria usufruiscono dei treni. Soprattutto gli utenti dall'Aquiva da Genova ad agosto per lavori sulla tratta, probabilmente sui treni non ci potranno proprio salire. Il tutto in attesa di notizie certe anche sugli orari, che non sono arrivate dall'ultimo vertice fra Trenitalia, RFI e Comitato Trasporti, Valliorba e Stura. Ci saranno autobus a disposizione, forse anche potenziati nelle fasce orarie di punta, ma anche probabilmente buchi di ore nelle quali raggiungere Genova in treno sarà impossibile. Per questo confidare sull'autostrada è l'unica ancova di salvezza per i pendolari. Sulle tratte Ligure in effetti dal primo luglio tanti cantieri sono stati rimossi o comunque ridotti fino all'80%, grazie al piano estivo concordato fra il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili ed ANAS con i gestori delle autostrade. Piano che prevede la sospensione progressiva dei lavori sulle strade di interesse nazionale e sulle autostrade. I cantieri che rimangono attivi potranno essere interessati da una gestione flessibile che consente di chiuderli rapidamente in caso di formazione di code. Gli interventi manutentivi riprenderanno dal 15 settembre. Intanto, dove i lavori per motivi di sicurezza non potessero essere sospesi, gli utenti potranno ricevere il rimborso dei pedaggi in caso di ritardi nell'ambito dell'iniziativa di cashback sulla rete ASPI.